Documenti storici ricordavano della presenza di un colore azzurro sul quadrante che però era completamente perduto. Invece ricercando attentamente con il microscopio i frammenti li abbiamo trovati, li abbiamo mappati per poter essere poi modello per la riproposizione di questo quadrante azzurro. I cieli azzurri dell'orologio del Palazzo di Fraternita tornano alla luce, ma non solo, trovati anche frammenti d'oro sotto le linee delle fasi lunari che impreziosivano il quadrante. Anche essi originali sotto a numerosissimi strati di ridipinture. Questo orologio dai documenti risulta che ogni pochi decenni veniva ripittato, ridipinto, mantenuto e quindi ognuno ha messo la sua opera sopra a quello che c'era sotto. Quindi per fortuna sono rimasti dei frammenti d'oro che disegnavano le linee della luna e le cifre che erano diventate nere in quanto a un certo punto il fondo era bianco e ora sono tornate a essere oro su sfondo azzurro. I segreti dell'orologio del Palazzo in Piazza Grande svelati durante le operazioni di restauro che termineranno entro il 20 agosto. Verrà portato a quello che era il più antico pensiero di chi lo ha realizzato, che è del 1552, quindi avrà di nuovo i colori come erano stati pensati in origine. È un cosiddetto orologio astronomico, oltre che segnare l'ora e battere ogni quarto d'ora, ricordando anche poi che ora è, quindi anche da distanza si sapeva che ore fossero in quel dato momento, indicava le fasi lunari, la posizione del sole e la posizione del sole rispetto alla luna. L'orologio astronomico è stato costruito nel 1552 nella vela progettata da Giorgio Vasari e dipinto da Salvi Castellucci, un'opera straordinaria dall'importante valenza sociale oltre che artistica. Si faceva riferimento a questo sia per le attività umane legate alla luna che all'orario, questa era la piazza poi del mercato, quindi è il posto migliore perché chiunque potesse sapere l'ora e la si sentiva anche attraverso le campane.